ciao amici di cavalli musica siamo nel reparto sintetizzatori e oggi per mostrarvi una novità assoluta di mug il nuovo mavis che è un piccolo sintetizzatore molto ridotto come funziona oggi ce lo fa vedere il nostro amico maurizio eccolo qua ciao maurizio ci fai vedere questo mug ma soprattutto ce lo fai sentire lo faccio sentire dopo che l'ho montato dopo che l'hai montato una cosa particolare che si trova lo faremo vedere dopo è in kit quindi si può anche divertire a montarlo semplicissimo l'ho portato di tutti piccolissimo monofonico analogico ma suona grande come un monto naturalmente adesso voi vedete che lui lo suona con i tastini però è interfacciabile a qualsiasi tastiera giusto? abbiamo insieme vengono forniti i vari cavi per le varie configurazioni bellissimo anche questa mappatura mappature come una volta possiamo metterci sopra possiamo anche crearci le nostre configurazioni partendo da questa idea e qui abbiamo diciamo i preset molto analogici ovviamente sì perché questo è la sintesi no cioè qui qui non c'è nulla di digitale giusto? assolutamente adesso io mentre scorrono queste cioè mentre diciamo queste parole faccio scorrere le immagini di quando tu lo stai montando e qui invece questa è la scatola di come si presenta il pannello frontale e poi sotto e sotto tutto i vari componenti ma semplicissimo semplicissimo alla portata di tutto c'è anche un piccolo cacciavite per le poche viti da montare eccolo qua venite a provarlo e divertitevi con quello venite a giocare potete anche acquistarlo tra l'altro giusto perché ne abbiamo due pezzi uno è già montato e ve l'ha montato il maestro maurizio che quindi potete anche sfruttare questa cosa qua no ma comunque è una portata di tutto si è molto semplice l'abbiamo montato proprio in cinque minuti vero maurizio ok grazie maurizio da pierangelo e maurizio del reparto tastiere ciao ciao a presto il sabato maurizio per tutto ciò che volete ciao